Ben trovati dalla redazione di Newsroom Europa all'appuntamento con il telegiornale delle notizie europee che coinvolgono il nostro territorio emiliano-romagnolo. In apertura questa sera parliamo di agricoltura e di innovazioni nel mondo agricolo dalle prime applicazioni alla fine degli anni 80 sino alle moderne tecnologie per supportare la viticoltura sostenibile in Emilia-Romagna. Tutto questo oggi avviene grazie anche all'Unione Europea. Sentiamo come. ImageLine è una realtà romagnola nata nel 1988 con l'obiettivo di sviluppare soluzioni integrate per l'agricoltura che oggi porta avanti le proprie attività grazie anche ai finanziamenti dell'Unione Europea. ImageLine nasce nell'88 in Romagna proprio dalla mente di Ivano Valmori, Lady ImageLine che ha fondato l'azienda per sviluppare soluzioni digitali integrate per l'agricoltura. I digitali nell'88 erano delle applicazioni in MS-DOS, erano delle banche dati, oggi sono delle web application che grazie anche ai finanziamenti dell'Unione Europea veicolati tramite la regione Emilia-Romagna, pensiamo al Port Fesre ad esempio, trovano delle ricadute in campo che sono particolarmente importanti. Su due direttrici la trasformazione digitale e la transizione ecologica. Faccio un esempio che è quello di SOS Qualitech che è un progetto che ha consentito a Terre Cevico una realtà emiliana romagnola con cui abbiamo collaborato di valutare, garantire, ottimizzare tutta la raccolta di informazioni in campo per una migliore valutazione delle qualità delle uve in entrata e noi siamo stati partner tecnologici di questo ambito e poi collaboriamo con realtà del mondo della ricerca emiliano romagnola come l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza per supportare la viticoltura sostenibile, ci sono due progetti che sono due PSR quindi una big vite sui big dati in viticoltura e Resilvigna sulla resilienza dei sistemi viticoli e poi possiamo citare il progetto Lifehada ha coinvolto filiere come Parmigiano-Reggiano come filiere viticola e ortofrutticola dell'Emilia-Romagna per aiutare gli agricoltori a essere più resilienti nei confronti dei cambiamenti climatici. Parliamo adesso dei GAL che sono società consortili che mettono in rete enti pubblici e associazioni private per lo sviluppo del territorio non metropolitano. L'ultima regione è nato a Rimini ed è il GAL, Valli Marecchia e Conca ed opera grazie ai fondi europei del FEASR. Sentiamo. Sviluppo economico, promozione del territorio e del paesaggio attraverso strategie di cooperazione tra enti pubblici, privati e cittadini e anche con altri territori a livello regionale, nazionale ed europeo. Sono i GAL, i gruppi di azione locale che operano grazie ai fondi europei del FEASR. Ce ne sono sei in Emilia-Romagna, uno è a Rimini, il GAL delle Valli Marecchia e Conca. È un GAL molto particolare perché, come il nome stesso dice, ha un territorio di riferimento che è diviso tra la Valle del Marecchia e la Valle del Conca, due valli che non si toccano fisicamente perché sono poi divise dalla Repubblica di San Marino. È un territorio che interessa 18 comuni, 9 in Val Marecchia e 9 in Val Conca, su una superficie di circa 50 mila ettari. Per chi non lo conoscesse è un territorio molto particolare perché è la parte di Appennino più vicina al mare. È un'area di grande richiamo turistico che unisce Valenze storico-culturali e un territorio punteggiato da castelli e borghi di grande bellezza, ad una natura soprattutto legata alla presenza di bellissimi geocity in cui spiccano anche il parco Sassosimone e Simoncello e le grotte di Onferno. È anche un territorio di produzioni di grandi qualità. In questo territorio chiaramente è stata sviluppata una strategia di sviluppo locale particolare legata a queste priorità. Non a caso il GAL Valle del Marecchia e Conca è l'unico in Emilia Romagna che ha scelto come ambito principale di intervento e quindi come filo conduttore di tutta la strategia il paesaggio. Il nostro GAL nel settennato gestisce circa 13 milioni di Euro che dovrebbero generare investimenti sul territorio per circa 18-20 milioni. Quindi stiamo parlando anche di investimenti importanti. I fondi che arrivano ai GAL derivano dal FEASR che è il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Quindi assolutamente tutte le attività dei GAL arrivano da fondi comunitari. È tutto, vi ricordo che trovate una sezione di Newsroom Europa anche sul sito newsrimini.it. Dalla redazione grazie per la vostra attenzione e a tutti voi l'augurio di un sereno Natale.